Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Un uomo disperso da ieri sera è stato salvato nel primo pomeriggio di oggi dall'equipaggio dell'elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco che l'ha individuato in un campo di mais all'isola della Scala in provincia di Verona. Il 66enne con problemi di salute era uscito di casa ieri sera a Bovolone perdendo l'orientamento e il ritorno. Le ricerche sono iniziate questa mattina poco prima delle 11 da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri con la pellustrazione delle zone limitrofe. Alle 14 l'esito positivo con la individuazione dell'uomo da parte del personale di volo che stava rientrando dalla ricerca in Lessinia di un'altra persona in cui da giorni non si hanno notizie. L'elicottero è atterrato in un'area verde permettendo così agli eli soccorritori di raggiungere l'uomo completamente disorientato in mezzo ad un fitto campo di mais. L'uomo in discrete condizioni fisiche è stato disestato e poi accompagnato dai propri familiari. La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti per un albero di notevoli dimensioni finito sopra un'auto in transito lungo la statale 248 in via Vittoria Mussolente nel Vicentino in direzione Treviso ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Bassano hanno subito assistito la donna intanto venuta fuori da sola da una Mercedes classe B poi presa in cura dal SUEM. La squadra ha subito appurato che la caduta della pianta è stata causata da un taglio volontario da parte di Gnoti con una motosega in un punto della strada molto pericoloso in quanto in prossimità di una curva. Successivamente alla sala operativa giungeva la notizia di un'altra pianta tagliata sempre alla base nella direzione opposta a un chilometro e mezzo dalla prima pianta in via Cabembo a San Zenone degli Ezzelini. Sulla seconda pianta sono intervenuti i vigili volontari di Asolo che hanno provveduto come nel primo caso a liberare la caleggiata e quindi al ripristino della circolazione della strada che di fatto è stata impedita nei due sensi di marcia dal taglio delle piante. I carabinieri intervenuti con la radiomobile di Bassano del Grappa a Casalfranco Veneto e della stazione di Romano Dezzelino stanno ora indagando per individuare i responsabili e capire lo scopo del grave gesto. Nella notte del 4 luglio scorso i carabinieri della compagnia di Padova sono intervenuti presso il noto bar Movembic di Vigonza in quanto un gruppo di giovani in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all'abuso di alcol ha creato disordini all'esterno del locale nello specifico un gruppo di ragazzi tra cui alcuni minorenni si è presentato presso il locale richiedendo che venissero loro servite bevande alcoliche una volta ricevuto il rifiuto è iniziata l'escalation di violenza si sono susseguiti ulteriori danneggiamenti dei suppelletti presenti sul plateatico del bar nonché l'aggressione nei confronti del proprietario, del barman e di un avventore da qui l'intervento è tempestivo dei carabinieri della sezione radiomobile che a loro arrivo hanno intercettato alcuni dei giovani che stavano scappando dal bar due dei fuggitivi sono stati bloccati e quindi portati in caserma per gli accertamenti del caso si trattava di un 19enne e di un 16enne di origine quadronegna nati in Italia ma residenti a Padova sui quali sono stati raccolti degli elementi per una denuncia in concorso per loro il foglio di via obbligatorio provvedimento che impedirà al 19enne di tornare nel comune di Vigonza per un anno mentre al minorenne è stato invece notificato il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento all'interno del bar e nelle immediate vicinanze nonché nelle vie limitrofe all'esercizio pubblico sempre per un anno La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito delle operazioni di perquisizione domiciliare alla ricerca di elementi di prova a supporto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di FOI che hanno consentito di sequestrare il danaro contante per un importo di oltre 126 mila euro Oggi si è verificato un incidente stradale anche a Polverara sempre nel Padovano dove sono stati coinvolti due veicoli è rimasto ferito un cittadino italiano di 70 anni che è stato trasportato all'ospedale di Padova sul posto è intervenuta anche la polizia stradale ovviamente per gli accertamenti del caso E questa mattina i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in città per l'incendio divampato al pian terreno di una casa di 4 appartamenti e nessuna persona è rimasta ferita i pompieri arrivati dal capoluogo berico con un'autopompa, un'autobotta e i 7 operatori sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme evitando così un incendio generalizzato l'incendio ha bruciato però gli arredi del soggiorno causando danni da fumo a tutto l'appartamento coinvolto il calore ha anche causato danneggiamento delle pignatte del solaio e del soggiorno inibito quindi l'uso della stanza sovrastante al piano superiore le cause dell'incendio sono ora al vaglio della squadra intervenuta e torniamo a parlare della tragedia del Marmolada in relazione alla tragedia dei giorni scorsi i ricercatori del gruppo di lavoro geofisico per le ricerche sulla Marmolada che da 20 anni studiano il ghiacciaio hanno voluto portare il proprio contributo alla comprensione del tragico fenomeno il ghiacciaio della Marmolada è il più grande ghiacciaio delle Dolomiti ed è un fondamentale termometro dei cambiamenti climatici proprio per la sua rapida risposta anche alle piccole variazioni di precipitazioni e temperature storia del ghiacciaio nell'ultimo secolo tra le principi cause vi è anche certamente l'aumento della temperatura in particolare nella zona della Marmolada dalla temperatura minima invernale che nel corso di 35 anni di osservazioni è aumentata addirittura di 1,5 centigradi parliamo di pianificazione urbanistica consumo del suolo, vincoli espropriettivi sono quelli i temi trattati in un convegno organizzato dalla provincia di Padova con la collaborazione della Camera di Commercio gli ordini professionali degli avvocati all'incontro erano presenti Daniele Cannella vicepresidente della provincia di Padova Franco Pasqualetti vicepresidente della Camera di Commercio i rappresentanti degli ordini degli avvocati di Padova ed altri relatori e tecnici che sono intervenuti nelle diverse sessioni vediamo è fondamentale questa attività di formazione e di condivisione di aspetti importanti riguardanti la parte tecnica, la parte giuridica in particolar modo per quanto riguarda i vincoli nella pianificazione urbanistica i comuni in questo momento sono chiamati a gestire una fase storica molto delicata dovuta anche appunto alla programmazione degli investimenti derivanti dal PNRR da tutte quelle che sono le opportunità economiche europee e nazionali e quindi in questa fase non ci si può permettere di sbagliare e di perdere tempo motivo per cui dopo aver accolto appunto aver accolto questo grido di allarme da parte di numerosi comuni soprattutto di piccoli comuni sulla difficoltà di interpretazione e di gestione di problematiche complesse appunto legate ai vincoli espropriativi, conformativi e tutto quello che riguarda appunto la pianificazione delle opere pubbliche nel territorio con il settore pianificazione urbanistica e territoriale della provincia di Padova abbiamo organizzato questo convegno coinvolgendo importanti relatori, importanti legali, importanti tecnici e quindi potendo mettere in rete queste esperienze e queste conoscenze che saranno utili ai comuni e al territorio padovano appunto per affrontare al meglio questa fase storica molto complessa Sì, abbiamo accolto con vero interesse questa iniziativa della provincia su questo convegno perché quello che è la rigenerazione urbana è lo sviluppo e la sostenibilità dei nostri territori per il futuro e quindi serve sempre un confronto per affrontare queste tematiche Anche il consumo del suolo è un tema molto scottante e anche l'Europa ci invita a metterci a norma come dire, ad avere un'attenzione particolare entro il 2050 dobbiamo pensarci subito Certamente, questi incontri servono proprio a condividere questo sentimento che non possiamo continuare a consumare territorio ma dobbiamo rigenerare quello che abbiamo e quindi abbiamo tantissimi insediamenti produttivi da rigenerare e questo è il compito di tutti noi Forse anche alla luce del PNRR bisogna saper pianificare ma a distanza, con lungimiranza, non pensando solo ad oggi Sì, è una programmazione perché queste situazioni di abbandono di queste aree ad oggi sono un costo sociale noi dobbiamo trasformarle invece in un'opportunità e una risorsa per il nostro territorio Parliamo di quelle che sono state le dichiarazioni espresse ieri dal sindaco di Montegrotto Terme prime dichiarazioni sulla decisione espressa proprio dal sindaco Riccardo Mortandello di concedere, a prescindere dalla legge vigente lo ius scole ai minorenni stranieri In Italia i giovani stranieri tra i 14 e i 24 anni sono il 10% ma commettono la metà dei reati Nei giorni scorsi i due emigrati di seconda generazione uno dei quali minorenni hanno devastato un locale pubblico a Vigonza di cui abbiamo parlato prima Questi sono i fatti che forse sfuggono al sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello che si è fatto portavoce di una iniziativa fuori da ogni logica e da ogni diritto La cittadinanza italiana è un privilegio e non può essere concessa in automatico Prima dei diritti vengono i doveri Invece di perdere tempo con mozioni inutili Mortandello pensi ai San Pietrini alla loro sicurezza e a come sostenere le famiglie in difficoltà Sono queste le parole espresse in queste ore dal senatore leghista Andrea Ostellari Presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama Sono numerose le segnalazioni che giungono ad Adconsum Veneto l'associazione difesa consumatori dai passeggeri che subiscono la cancellazione del volo negli aeroporti veneti A riguardo la disciplina tutela del consumatore è chiara In caso di cancellazione di ritardo o negato in barco il famoso overbooking il passeggero ha diritto ad essere informato, assistito e indennizzato In caso di cancellazione del volo afferma Davide Cecchinato, presidente di Adconsum Veneto il passeggero ha diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento CE a tre diverse forme di tutela alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni o la riportezione di un volo alternativo a condizioni di trasporto comparabili verso la destinazione finale non appena possibile o ancora ad una data successiva di suo gradimento Inoltre all'assistenza, articolo 9 con particolare attenzione dei casi in cui il passeggero si trova in condizione di mobilità ridotta o alla compensazione pecunaria con la compensazione dovuta anche in relazione alla tratta aerea e alla distanza chilometrica che varia tra i 250 e i 600 euro per ciascun passeggero E' stata firmata da Confindustria Venezia l'area metropolitana di Venezia e territorio di Rovigo con Intesa San Paolo la declinazione locale dell'accordo nazionale tra Confindustria e Intesa San Paolo per la crescita delle imprese e mette a disposizione 16 miliardi di euro per le imprese venete nell'ambito dei 150 miliardi di euro del plafond nazionale per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo sul percorso congiunto competitività, innovazione, sostenibilità in coerenza con il PNRR Prosegue Sentieri Sonori la rassegna dedicata alla scoperta dei colli euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura L'appuntamento è per sabato 9 luglio sarà presso Villa Beatrice d'Este a Baone in provincia di Padova tra i luoghi più simbolici ed evocativi dei colli euganei dove la storia incontra il paesaggio raffinato seduti sul prato, cinto dai bassi muri di Trachitis a volte dal profumo dell'estate e dalla immortale spiritualità dell'ex convento fondato dalla Beata Estense una movimentata meditazione musicale che propone con i brani di Alma Mia di Ilaria Mandruzzato ovviamente una serie di selezioni a cui l'artista è molto affezionata e che rappresentano emozioni e messaggi a lei particolarmente cari l'iniziativa gode del patrocinio della provincia di Padova dei comuni di Baone, Cinto Euganeo e Lotto Testino ed è ovviamente come media partner coaduvata da Caffè24 e da Radio Caffè Presentata questa mattina la stampa di Padova a Palazzo Moroni l'ottava edizione del Kiss Venice Open di golf tre giorni di gara con la presenza di 320 giovani atleti in rappresentanza di 35 nazioni ed oltre 700 ospiti che si alterneranno nei green dei golf club della Montecchia Golf Frassanelle l'evento ha validità per il ranking mondiale e ha il sostegno della Federazione Italiana di Golf credo che da decenni sia una risorsa straordinaria del tutto il nostro territorio ma credo che ultimamente stia facendo delle cose straordinarie parto da questa grandissima scoperta della Bermuda perché credo che abbia fatto fare un saldo di qualità e ahimè è tristemente importante proprio in questo periodo in cui parliamo di siccità parliamo di difficoltà di reperimento dell'acqua e questo va nella linea che il golf club della Montecchia ha intrapreso tanti anni fa e quindi complimenti complimenti per tutto quello che fate questa è una manifestazione nella quale il comune di Padova io sono particolarmente legato perché coniuga due aspetti bellissimi che sono quel respiro internazionale che porta Padova, la provincia di Padova alla ribalta attraverso lo sport, attraverso l'ambiente attraverso la sostenibilità e la porta a livelli in carattere appunto internazionale e poi per un evento che è dedicato ai bambini siamo passati nell'arco di una settimana a trovare i diversamente giovani alla Montecchia e oggi ci apprestiamo a fare questa conferenza stampa per i giovani veri però voglio dire in entrambi i casi abbiamo avuto centinaia di presenze questo vuol dire che sia lo sport e il golf in particolare richiama ma è anche tutta l'organizzazione perché se l'organizzazione non fosse all'altezza non fosse alla vanguardia probabilmente con tutte le offerte che ci sono in tutto il mondo probabilmente le varie famiglie, i vari giocatori avrebbero scelto delle destinazioni diverse Torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti che nasce nel 1947 come una gara di velocità pura oggi invece è una gara di regolarità classica per auto storiche prodotte fino al 1971 è entrata nella storia grazie alla particolarità e al fascino del percorso inserito nello scenario unico delle Dolomiti patrimonio mondiale dell'UNESCO anche per l'edizione 2022 della Coppa d'Oro delle Dolomiti diciamo che il parquet è quello di Cortina d'Ampezzo dal 14 al 17 di luglio dove i partecipanti gareggiando con la propria auto potranno ammirare i panorami più affascinanti delle Dolomiti gli equipaggi che si iscriveranno all'edizione 2022 della gara di regolarità potranno partecipare con la propria auto alla terza edizione del concorso di eleganza una giuria di esperti infatti valuterà le auto in concorso che verranno premiate durante la cerimonia della domenica parliamo ancora di sport dal primo al 3 luglio scorso si è disputato a Lido di Fermo il torneo di Gym Box a vincerlo è stato il veneziano Matteo Battagliarin assistente capo coordinatore della polizia di stato in forza alle volanti della questura di Padova gli allenamenti tenutisi proprio a Padova hanno fatto così conquistare a Battagliarin il titolo di campione italiano di Gym Box bene è tutto per questa nostra edizione del giornale vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni vi ricordo la possibilità di seguirci come sempre attraverso il nostro sito www.caffettv24.it o attraverso la nostra pagina social www.caffettv24.it